Ieri, venerdì, il momento culminante dei liti pasquali, il terzo giorno delle celebrazioni della Settimana Santa Giolese e delle processioni che accompagnano le sagre figi del Cristo e della Dolorata. Giorno di raccoglimento, di digiuno e di astinenza in cui la Chiesa ci presenta la passione e la morte redentrice di Gesù. Dopo la celebrazione dei salmi e la solenne rievocazione del peregrinaggio peritenziare del Cristo sofferente che porta il peso della croce e della passione, seguito dalla Dolorata, il simulacro è stato condotto al Calvario per la crocefissione, seguito da una moltitudine di fedeli in processione dai gruppi di preghiera e dai giovani delle associazioni cattoliche appartenenti alle parrocchie di Gera. Il gruppo di lamentatori ha accompagnato, come da tradizione, le processioni della Settimana Santa, suscitando tantissima commozione tra i fedeli, accentuata dal triste rullo del tamburo. A mezzogiorno la crocefissione è uno dei momenti più suggestivi ed intensa commozione dei riti della Settimana Santa. L'antico simulacro settecentesco in cartapesta e cuoio del Cristo è stato collocato sulla grande croce del Calvario, dove è rimasto fino all'imbrunire per essere venerato da migliaia di fedeli che hanno gremito la piazza. Dopo la preghiera della Divina Misericordia, la Via Crucis, animata dai giovani, è la liturgia della passione e morte di Cristo. Alle 19.30 poi la deposizione della croce e l'imponente processione con il Cristo morto riposto nell'urna, portata a spalla dai marinai gelesi. Oggi, giorno di silenzio e di sommoluto, la Chiesa medita la morte di Cristo nell'attesa della resurrezione. In Chiesa madre la solenne suggestiva ufficiatura e riposizione del Cristo morto nell'altare della passione. Alle 23.00 in Chiesa madre è prevista la veglia pasquale e la messa di risurrezione. Domani, alle 9.15, alle 11, alle 12, alle 19.30 e alle 20.45, nella Chiesa del Rosario, sono previste le sante messe. La chiesa del Rosario, sono previste le sante.